Allora è arrivata una segnalazione da parte di una signora che ci ha inviato anche delle immagini, una segnalazione dei condomini di Via dell'Istria 77-1-2-3-4-5. Da parecchio tempo c'è una fuoriuscita di liquame, la vediamo, vediamo il video secondo i condomi dall'area della Caritas di Via dell'Istria. Pare la signora abbia già avvisato gli enti preposti, fra cui il comune, la Cegas e i vigili del fuoco, ma non avrebbe ricevuto una risposta concreta, dice la signora. Mi ha segnalato pochi minuti fa, ho segnalato la cosa del direttore generale dell'ARPA, la dottoressa Anna Luttman, e adesso vediamo di fare una verifica anche noi. Effettivamente fa abbastanza schifo vedere questo, quindi penso che l'odore non sia dei migliori, non sia di gelsomini, e quindi da quello che si vede potrebbe così, però da ignorante, perché io non conosco, non ignoro il fatto, vedendolo come vuoi in televisione, sembrerebbe una rottura di qualche scarico di acque reflu sporche di quel condominio, sembrerebbe, non penso che venga dalla fogna da sotto, per capirci, e quindi potrebbe essere a sensazione una responsabilità condominiale, non del condominio della signora ovviamente, ma dei vicini ovviamente. Adesso vediamo cosa mi dice l'ARPA, abbiamo le squadre del pronto intervento, e fare una verifica. Al termine della trasmissione l'assessore Scocci Marro ha avuto risposta dall'ARPA, che ha contattato il gestore di servizio ERA, ha parlato di una perdita già segnalata due settimane fa al gestore, contattati dal tecnico reperibile di ERA a parte acqua, ha riferito, la situazione è già nota da tempo, anche all'azienda sanitaria locale, che ha fatto un sopraluogo sul posto con la presenza del proprietario, il curatore della Caritas. Lo scarico è privato, risulta una perdita interna che deve essere risolta dal titolare della struttura. ERA si riserva di intervenire la prossima settimana con il Dipartimento di Trieste, qualora la situazione non fosse risolta nel frattempo.